La dobbiamo rifare perché praticamente noi stiamo qua a festeggiare tutta la settimana vi aspettiamo qua per festeggiare la grande promozione della Castellanzese e per assaggiare la patatina dello stadio comunale. La festa culminerà ovviamente domenica quando ci sarà il Brebi, ma questa è una storia lunga, ci vediamo a fine settimana. Orta Nero Verdi!